il primo sentiero ha il nome di sentiero del cavatone gli abitanti della sentina lo chiamano così da sempre e sai perché perché si riferisce alla forma cava del fossato alla tua sinistra dove scorre il piccolo corso d'acqua si tratta di un fosso collettore che segna il confine nord della sentina anni fa il fosso del cavatone è stato rinaturalizzato piantumando specie vegetali come il rosmarino o la lavanda per dare vita al percorso botanico che tu sia a piedi o in bicicletta lasciati inebriare dal profumo della macchia mediterranea la sentina è l'habitat per oltre 400 specie vegetali un territorio riconosciuto dalla regione marche come area di eccezionale rilevanza floristica puoi saperne di più consulta la bacheca della flora dunale che trovi a fine percorso grazie a tutti grazie a tutti